E passiamo al comprensorio Ladispoli. In fiamme l'attico di un palazzo in via Suor Maria Spinelli a Ladispoli nella zona della stazione ferroviaria. Attimi di paura all'alba di oggi per il grosso incendio divampato nell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina a tre livelli. Gran lavoro per i vigili del fuoco giunti da Cerenova, impegnati a lungo con il supporto anche delle squadre di Bracciano e Anguillara, prima di avere ragione delle fiamme. L'intero stabile è stato subito evacuato, grande tensione tra gli inquilini preoccupati per le sorti dei loro appartamenti. Anche la strada sulla quale insiste la palazzina è stata interamente transenata da parte dei carabinieri, giunti subito sul posto insieme alla polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, a generare l'incendio sarebbe stato un cortocircuito che si sarebbe innescato da un angolo della casa situato vicino ad una tenda che avrebbe subito preso fuoco. In quel momento nell'attico non c'era nessuno. Sono stati i vicini di casa a lanciare l'allarme avendo avvertito il forte odore di fumo. Gravi danni strutturali all'appartamento ancora in corso, invece la perizia per stabilire se l'intero stabile è a rischio e se gli inquilini possono fare rientro a casa. E' stato celebrato questa mattina il funerale di Alessandro Valotta, il ragazzo di 25 anni deceduto domenica scorsa mentre giocava una partita di calcetto. Un ragazzo laureato con 110 lode che a giorni avrebbe dovuto conseguire la laurea specialistica. Moltissime persone hanno affollato l'interno della chiesa del Sacro Cuore di Gesù alla Dispoli e tante altre sono rimaste fuori per testimoniare alla famiglia Vallotta, Cordoglio e Solidarietà. La comunità profondamente toccata da una morte così prematura si è raccolta vicino ai genitori di Alessandro e alla sorella Valeria. Tanti giovani e ragazzi ognuno chiuso nel proprio dolore hanno con preghiere d'applausi accompagnato il passaggio del feretro coperto di fiori bianchi. Il paroco Don Giuseppe ha voluto ricordare il percorso intrapreso da Alessandro nel periodo cresimale nel quale aveva manifestato la sua vocazione di fede ed una grande sensibilità umana. Gli amici nei commenti eletti hanno voluto ricordare la sua passione per la musica, per il calcio e la sua particolare positività che per sempre lo caratterizzerà come un 110 lode per la vita. Tre arresti dei carabinieri di Tarquinia ieri pomeriggio in manette una romena facente parte di una banda specializzata nei furti di superalcolici delle marche più prestigiose. La donna è stata bloccata ieri pomeriggio dai militari del luogotenente Stefano Girelli, intervenuti presso un supermercato cittadino su segnalazione del titolare. I tre, due uomini e una donna, infatti, stavano rubando otto bottiglie ciascuno, asportando abilmente il collarino antitaccheggio su ciascuna bottiglia di Jack Daniels e Civas Regal. La donna è stata subito bloccata mentre gli altri due sono riusciti a scappare, ma sono stati prontamente identificati mediante riconoscimento fotografico e quindi nelle prossime ore saranno raggiunti anche loro da ordinanza di cattura. La romena, arrestata ieri pomeriggio, è stata invece processata stamane per direttissima. In manette ieri è finita anche la capostipite di Rom di Tarquinia. La donna è stata infatti raggiunta da un'ordinanza di arresto emissa dalla procura di Grosseto per reati di estorsione. La Rom avrebbe più volte approfittato della benevolenza di un parroco, addebitando allo stesso acquisto del quale la vittima non era a conoscenza. Infine, quattro mesi di carcere per un tarquinese accusato di non aver mai pagato alimenti all'ex moglie. Allumiere, il tema del digestore continua a creare bagarre in collina. I particolari nel servizio realizzato per noi da Romina Mosconi. Sentiamo. Il digestore continua a creare bagarre in collina. Mercoledì pomeriggio presso il comune di Allumiere si è infatti tenuta la commissione uso d'assetto del territorio. Il sindaco ha aperto questo incontro anche a minoranza e movimenti. Nel corso della riunione si sono registrati dei dissenzi. L'ho detto e ripetuto più volte. Io e la mia amministrazione siamo contrari a ogni piatto di trattamento dei rifiuti, spiega il sindaco Battilocchio. Ho lottato e continuo a lottare per evitare questo scempio. Basta con le accuse strumentali. Visto che la provincia di Roma ci ha chiamato a questa preconferenza dei servizi, dove la Renewest propone un ridimensionamento del digestore, noi in consiglio cercheremo di votare una delibera per ribadire il no. Rispedisco al mittente le accuse di Fontanatonna. Non ho mai detto che accetteremo un impianto di piccole dimensioni. Diverso il parere di Fontanatonna. Si è stassiorando il ridicolo anche di fronte al verbale della provincia di Roma, che attesta che Battilocchio ha chiesto il ridimensionamento. Il sindaco nega ancora, dicendo che in provincia non sono state verbalizzate nel modo giusto le sue posizioni. Domani ci sarà invece il Consiglio Comunale straordinario, con il quale il sindaco Battilocchio vuole annullare la delibera di quest'estate contro il digestore, votata all'unanimità e condivisa anche con tutti i movimenti per rifarne un'altra, che si rifà a quella del 2011, in cui però si diceva che accettavamo un impianto fino a 30.000 tonnellate. È assurdo. Contraria anche Roberta Morbidelli, consigliare del PDL. Ci hanno presentato un'altra delibera pappa fatta, che in Consiglio non accetterò, perché si rifà la delibera 12 del 2011, per la quale tutti noi dovremmo fare mia colpa e considerarla la delibera della vergogna. Perché non ci siamo resi conto, continua ancora la Morbidelli, che conteneva la dicitura fino a 30.000 tonnellate di immondizia, quando nel nostro compersorio non si arriva nemmeno a 10.000. All'epoca abbiamo sbagliato. Non possiamo prendere quella delibera, come dice il sindaco, come stella polare, perché ormai è superata e da abbiurare. Abbiamo una delibera nuova, fatta nell'estate del 2012, perché cambiare allora? Il comitato no alla mega discarica ha ricevuto una missiva dalla provincia di Roma, con cui comunicano al comitato che hanno accettato la loro richiesta di audizione dei lavori della conferenza dei servizi, che si terrà il 2 aprile. Domani nell'aula consigliare si terrà il Consiglio comunale straordinario su questo tema. Se c'è da modificare qualcosa nella nuova delibera, lo faremo, conclude il sindaco. Siamo pronti al dialogo. L'importante è a ribadire il nostro no forte. E cambiamo decisamente argomento. Dal 5 al 7 aprile la Dispo ritorna alla Sagra del Carciofo Romanesco, giunta ormai alla sua 63esima edizione, nonché settima fiera nazionale, una tra le più importanti manifestazioni in programma nel panorama locale e nazionale del settore enogastronomico. La cittadina balneare leader nella produzione agricola del carciofo locale è pronta al grande appuntamento che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Una nuova e ricca programmazione è stata illustrata ieri sera dal sindaco Crescenzo Pagliotta. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità a seguire la nostra consuetta pagina dello sport.